La cese non ha dubbi per rimare aperte fino all'ultimo momento utile, non si chiude il cerchio sulla consultazione che designerà il candidato a sindaco di Bari del centro-sinistra, intesa sulla data del 7 aprile e sui seggi, ma la trattativa resta in salita. Una pietra per frantumare la vetrina e portare via i pochi spiccioli custoditi in cassa, spaccata ai danni di un negozio di abbigliamento nel pieno centro di Barletta, protagonista del colpo, nella notte una coppia apparentemente distinta. Quinta edizione del premio letterario I fiori blu di Foggia, questa mattina la presentazione della nuova edizione che porta in capitanata 10 libri pubblicati nell'anno per avviare un percorso di consapevolezza che coinvolge tutto il territorio. Le notizie da Bari, Bat e Foggia ben ritrovati, apriamo con la politica. Vito Leccese non ha dubbi, primarie aperte fino all'ultimo momento utile, non si chiude il cerchio sulla consultazione che designerà il candidato a sindaco di Bari del centro-sinistra, intesa sulla data del 7 aprile e sui seggi, ma la trattativa resta in salita. Ci dice tutto Antonio Bucci. Chi vince le primarie o chi rappresenterà questo schieramento praticamente sarà il sindaco di Bari, quindi quanto più ampia è la consultazione, tanto più si arriva forti alle elezioni. Le porte aperte, la barra dritta, il cerchio sulle unitarie del centro-sinistra barese non si chiude e la trattativa sulla consultazione che dovrà scegliere a chi dare le chiavi della coalizione in vista delle comunali baresi di giugno resta in salita. Primarie aperte fino all'ultimo momento con il voto elettronico, ma senza prefiltraggio della platea degli elettori hanno ribadito dal PD, mentre dalla convenzione sono rimasti fermi esattamente sullo stesso punto. Il prefiltraggio, la preregistrazione fino alla sera prima. Vito Leccese tiene il punto e non nasconde però gli aspetti da migliorare nei prossimi anni. Pensiamo a tutto il servizio di igiene urbana che andrebbe sicuramente potenziato e migliorato, pensiamo agli obiettivi di raccolta differenziata dove stiamo ancora molto in affanno, siamo ancora attestati al 45% e dovremmo arrivare al 65%. La data da segnare sul calendario potrebbe essere quella del 7 aprile con 6 seggi a disposizione, meglio se preceduti da un patto di realtà. Dichiarazioni soprattutto dell'onorevole Donno sembrerebbe diciamo che non ci siano le condizioni per far precedere questa consultazione primaria con un patto di lealtà rispetto alla coalizione a seconda del risultato che avrà la consultazione. Insomma temo che possa sfilarsi poi alla fine il Movimento 5 Stelle visto il risultato delle primarie. Sono in aumento i procedimenti alla Sacra Rota, inaugurazione questa mattina dell'anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Pugliese, Ilaria Del Vino. Non ce l'abbiamo, andiamo avanti con la cronaca. Allora, corruzione, estorsione e violenza privata sono solo alcune delle accuse di cui dovranno rispondere i 7 indagati tra cui funzionali pubblici, imprenditori e professionisti di Manfredonia. Siamo nel Foggiano raggiunti questa mattina da misure cautelari della Guardia di Finanza. Sentiamo la cronaca da Antonella Daula che poi ha sentito per noi anche il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Foggia. Un vero e proprio terremoto giudiziario ha travolto il comune di Manfredonia nel Foggiano. Sono in tutto 7 le misure cautelari eseguite dai finanzieri a carico di altrettanti indagati, tra cui alcuni funzionari pubblici in servizio attualmente o in passato presso il comune Sipontino e una società partecipata. Per le ipotesi di reato di estorsione, concussione e corruzione, peculato, falso, lesioni personali, minacce e violenza privata, tre i filoni d'indagine ribattezzata giù le mani, diretti dalla Procura della Repubblica di Foggia. Il primo è relativo ad episodi di violenza e intimidazione che sarebbero stati posti in essere nell'ambito dell'azienda municipalizzata ASE. Secondo quanto emerso dalle indagini, uno degli indagati, Michele Fatone, dipendente dell'azienda pubblica, avrebbe costretto tramite minacce ad alcuni dipendenti dell'ente ad effettuare interventi di bonifiche e lavorazioni presso terreni a lui riconducibili, avvalendosi dei mezzi e dei materiali della municipalizzata. Indagato, destinatario della misura custodiale in carcere, il figlio, Raffaele Fatone, anche lì dipendente della municipalizzata e destinatario della misura degli arresti domiciliari, avrebbero anche aggredito uno dei responsabili del personale, procurandogli lesioni gravi con calci e pugni per una questione relativa ai turni di lavoro e minacciato l'amministratore delegato dell'azienda. Il secondo filone di indagine è quello riguardante l'autorizzazione all'esercizio di un'attività di onoranze funebri da parte di Grazia Romito, già destinataria di un provvedimento interdittivo antimafia e che per il tramite di un prestanome avrebbe l'uso e il divieto, proseguendo nell'attività d'impresa. La donna è stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, il secondo al divieto di dimora nel comune di Manfredonia. In tale contesto viene ad evidenza il ruolo di un ex assessore, Angelo Salvemini, in carica dal 2021, che avrebbe avuto un ruolo attivo sollecitando la struttura amministrativa al rilascio dell'autorizzazione. Il terzo capitolo di indagine attiene invece alla vicenda del noto ristorante Manfredo Inano Guarda Chelluna, riconducibile ad un altro indagato, Michele Romito, e alle azioni legali finalizzate a contrastare la sua rimozione attraverso minacce implicite ed esplicite. Tutto ciò sarebbe avvenuto con la collaborazione attiva dell'ex assessore. Uno dei tentativi di salvataggio del ristorante abusivo, inoltre, veniva posto in essere mediante lo scambio di utilità tra l'assessore indagato e il segretario comunale protempore Giuliana Galantino, destinataria della misura di interdizione dei pubblici uffici o servizi per 12 mesi. Indagati anche un altro funzionario dell'ufficio tecnico del comune e un dirigente della polizia locale, perché si ritiene abbiano reso false dichiarazioni al pubblico ministero o taciuto in parte ciò che sapevano. Allora, colonnello, una importante operazione che ha previsto sette misure cautelari nel comune Sipontino. Cosa racconta questo terremoto giudiziario? Racconta un diffuso sistema corruttivo, concursivo, teso a condizionare le scelte dell'amministrazione, ma posto in essere da figure apicali all'epoca dell'amministrazione comunale. Oggi il comune di Manfredonia invece è commissariato. Da cosa prende avvio questa indagine? L'indagine nasce da episodi di malagestione all'interno dell'azienda Servizi Ecologici, che oltre che malagestione diventano fatti di peculato, estorsivi, di violenze e intimidazioni da parte di un dipendente con funzioni di vigilanza e controllo sul restante personale. Da lì si sono sviluppate su altri due filoni di indagini riguardanti, da un lato l'illusione di un'interdittiva antimafia da parte di una persona che non avrebbe potuto esercitare quell'attività e lo fa tramite un prestanome continuando a gestire in prima persona e dall'altro i tentativi sempre di condizionare l'apparato politico-amministrativo del comune, anche mediante pressioni in debite, tese a evitare lo smontaggio, la rimozione di un noto ristorante che era ormai stato accertato, che sorgeva in maniera abusiva. Uno degli aspetti rilevanti di questa vicenda è proprio l'impiego della violenza fisica. Siamo abituati a raccontare di infiltrazioni mafiose sotto altri aspetti. Questo è un aspetto preoccupante. Lo è perché nell'indagine vengono fuori personaggi legati alla criminalità manfredoniana, noti da molto tempo e nonostante ciò hanno rapporti privilegiati con esponenti dell'amministrazione che li tutelano. Ancora cronaca, una pietra per frantumare la vettrina e portare via i pochi spiccioli custoditi in cassa, spaccata ai danni di un negozio di abbigliamento nel piano centro di Barletta, protagonista del colpo, nella notte una coppia apparentemente distinta. Maria Fiorella. Piena notte a Barletta, le strade del centro si sfollano, la gente torna a casa e probabilmente a casa stava rientrando anche la coppia che è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della zona, mentre commette un furto in via Ferdinando d'Aragona. I filmati ricostruiscono perfettamente la scena ed evidentemente le intenzioni dei due. Disinvolti passeggiano, mentre lei parla lui volta lo sguardo verso la vetrina di un negozio di abbigliamento, si ferma, la sua attenzione è rapita dalla cassa, prosegue ancora un po' dopodiché entra in azione. Ha preso una pietra e ha la scaraventata contro il vetro. Un solo colpo deciso, la vetrata è andata in frantumi, lei è rimasta all'esterno, lui è entrato. Si è avvicinato alla cassa, ha preso quello che doveva prendere ed è uscito e sono andati via. Tranquillamente? Tranquillamente, sì. Come se niente fosse. I due si sono allontanati con un bottino che si aggira intorno ad un centinaio di euro. Il danno invece, di molto superiore, è stato riparato il mattino seguente dai titolari del locale che hanno denunciato l'accaduto ai carabinieri della compagnia di Barletta, che sono al lavoro per identificare i responsabili. Vetro sostituito, si passa presto ad affrontare il tema sicurezza. La responsabile del negozio chiede che l'episodio faccia da apripista ad una maggiore attenzione delle forze dell'ordine, nella speranza che non si incancrenisca anche a Barletta il fenomeno tipicamente barese delle spaccate alle attività commerciali. Spero anche che durante la notte, quando la città è spenta, ci siano un po' più di controlli, anche per salvaguardare un po' tutti. Credo ci sia dovuto da cittadini e da lavoratori. Adesso siamo pronti per raccontarvi dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Pugliese. Ilaria Delvino. Inaugurato a Bari l'anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese, l'occasione è stata utile per tracciare un bilancio non semplicemente relativo all'anno appena trascorso, ma un decennio di impegno nell'intera compagine giudiziale regionale. Diverse le novità occorse negli ultimi dieci anni, la più importante è la riforma del processo per le dichiarazioni di nullità matrimoniale, avviata con il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, firmata da Papa Francesco il 15 agosto del 2015 ed entrata in vigore l'8 dicembre dello stesso anno. I pilastri fondamentali della nuova normativa canonica restano la giusta celerità, la prossimità e la possibile gratuità delle procedure, un iter non sempre facile. Non c'è dubbio però che la riforma abbia portato i risultati auspicati, soprattutto in termini di celerità del processo. Per quanto riguarda i numeri, purtroppo testimoniano una progressiva frantumazione della famiglia. Monsignor Satriano, una riflessione sul momento sociale che viviamo e che emerge anche da questi dati? Il momento sociale è di grande frantumazione, soprattutto a livello familiare ci ritroviamo con una crisi della famiglia e direi che l'intuizione del 2015 di Papa Francesco di ritessere una vicinanza alla famiglia e il dolore di tante famiglie con una prossimità anche dei tribunali, credo che sia un'intuizione molto forte e molto significativa. Secondo lei a che cosa è dovuta questa crisi? È un discorso grandissimo, probabilmente soprattutto da quelle che sono le influenze esterne, che non aiutano affatto a creare delle famiglie solide su valori precisi. Dunque un aumento delle richieste in questi anni di nullità matrimoniale. 200 l'anno scorso, 230 quest'anno. Sono numeri che fanno pensare, riferimento a quelli del Tribunale Civile, dove sono un migliaio nella Puglia. A Barletta la denuncia di Lega Ambiente per una zona che dovrebbe essere bonificata dai rifiuti. Questa amministrazione, il sindaco in primis, aveva a disposizione denunce pubbliche e mail private in cui si evincevano tutti i passaggi che sono stati fatti da chi è inquinato. A distanza di 4 anni, dopo non aver fatto nulla, utilizzato i fondi pubblici per un illecito privato. È perentorio il presidente di Lega Ambiente, Lello Corvace, a poche ore dall'inizio della bonifica di alcune zone di scarica a Barletta, in cui sono stati sversati nel tempo rifiuti, attacca l'amministrazione imputando al sindaco Cosimo Cannito la responsabilità di aver tacitamente acconsentito ad un illecito. Di averciò è lasciato che fossero sversati in quei luoghi, quali la zona Parco dell'Umanità, rifiuti negli ultimi anni, dato che nel corso di questo tempo non avrebbero mai risposto agli esposti fatti dai cittadini in cui si chiedevano spiegazioni su come fosse possibile che alcuni mezzi pesanti scaricassero in una zona in cui si costruivano palazzi, scarti di ogni genere ancora oggi non meglio identificati, in calza. Se ci fosse amianto fra quelle macerie che sta spostando la rospa, tutta quella polvere noi la stiamo inalando, la inalano i residenti, la sta inalando anche chi sta operando sulla macchina. Quindi la domanda seria è, è stato fatto un piano di caratterizzazione? Per queste motivazioni il presidente Lega Ambiente ha protocollato un esposto indirizzato alla Procura della Repubblica del Tribunale di Trani. Non è tutto, Corvace nutre un dubbio che condivide con alcuni residenti della zona, anche in questo caso in riferimento all'operato dell'amministrazione. Dichiara di aver cominciato a dialogare con quelli che lui ritiene irresponsabili, che sempre, stando alle sue dichiarazioni, lunedì comincerebbero a fare i lavori di rimozione per loro conto. Se quindi i responsabili lui sapeva quali erano, perché non agito in danno prima? La ciclovia urbana tra via Barletta e via Ferrucci, incontro tra l'amministrazione comunale di Andria e le associazioni di categoria. Antonio Gargano. Confronto tra amministrazione comunale e associazioni di categoria per discutere della ciclovia urbana di Andria che collegherà via Barletta e via Ferrucci, rimodulando il traffico di una zona ad alta affluenza. Venerdì pomeriggio il dialogo tra le parti al fine di trovare la soluzione ottimale per commercio, ambiente e viabilità. Io ho raccolto ovviamente i dubbi di molti di loro, tutti legittimi per carità, perché ogni cambio porta con sé sempre un po' di disorientamento. È chiaro che serve coraggio, serve determinazione, serve anche positività. In tanti altri casi nella nostra città, quando le strade hanno cambiato la loro fruizione per altre necessità, penso a Corso Cavour, penso a via Regina Margherita, ma poi nel tempo tutti ne hanno beneficiato, tant'è che adesso sono diventate strade e fiore all'occhiello della città. Allora dobbiamo tendere a quel tipo di risultato. Nel frattempo ci stiamo impegnando ad immaginare soluzioni che possano cercare di decongestionare un po' rispetto al problema dei parcheggi, lavorando su un progetto di parcheggio interrato in Piazza Umberto. L'amministrazione comunale punta ad un cambio di mentalità dei cittadini chiamati a sposare una linea green. Dall'altro lato i commercianti chiedono invece di rivedere il progetto iniziale, per non intaccare parcheggi e transito in zona, si studia il compromesso. Secondo me bisogna contemperare l'esigenza della città sicuramente di guardare a una mobilità alternativa e a politiche ambientaliste che anche noi stiamo sollecitando. Però dall'altro lato i commercianti, coloro che hanno investito nelle loro attività e che hanno anche necessità logistiche di poter usufruire dei parcheggi, siano tenute in considerazione. Noi speriamo che c'è ancora la possibilità di poter cambiare il percorso della ciclovia, però nelle strade limitrofi, senza stravolgere il progetto iniziale, istituendo delle isole ambientali, zone 30, zone verdi, nei quartieri limitrofi. Quale sostenibilità per il settore olivicolo-oleario? Il punto a Denoli Expo in Fiera d'Elevante, Domenico Brandonisio. Sostenibilità e competitività entrano di diritto anche nel vocabolario della filiera olivicolo-olearia. Di questo si parla in Fiera d'Elevante a Bari, nella seconda giornata dedicata a Denoli Expo. Dobbiamo lavorare per una cristallizzazione del concetto di sostenibilità, che secondo me deve andare sempre di più verso il concetto di durabilità. Una cosa che si decide, si organizza e poi rimane così. È chiaro che la sostenibilità non vale soltanto nelle scelte strategiche, nelle tattiche, ma soprattutto deve valere sul mercato, perché l'Italia ha bisogno di sostenibilità economica e devo dire che è un anno come questo che abbiamo scoperto che in realtà rispetto a quello che si dice l'olio italiano ha fatto dei passi in avanti, non perde i consumi ma li acquista. In virtù del recentissimo bando frantoi tutti avranno l'opportunità di ammodernare il proprio impianto nella logica della sostenibilità e dell'incremento della qualità delle macchine stesse e dell'olio finale. La stessa cosa sta succedendo in campo agricolo. Particolare attenzione anche per il futuro dell'olio biologico. Già ci siamo attivati noi per restituire un tavolo tecnico con cinque prestigiosi università, da quella di Bari, di Poggia, di Pisa, l'Accademia delle Olive e dell'Olio, per individuare una metodologia di certificazione della sostenibilità, anche un rating di sostenibilità da poter dare. E spieghiamo che questo merit rating è misurato anche in collaborazione con delle società di software house che possono misurarlo e possa essere uno strumento da mettere a disposizione delle istituzioni per poterlo certificare e noi siamo sempre disponibili a dare il contributo insieme al mondo della produzione. 120 mila euro raccolti per le donne in rosa e il bilancio 2023 della Comen Puglia. Pronte a tornare in piazza con la prossima edizione della Race for the Cure. Susan Comen Italia festeggia 25 anni di impegno per la solidarietà nella lotta ai tumori del seno e mentre proseguono i preparativi per la Race for the Cure, i numeri della raccolta fondi sono importanti. Un bilancio che dà fiducia e speranza nella generosità umana. È bello tirare le somme rispetto all'impegno e alla solidarietà per una causa importante. Sì, soprattutto in questa giornata noi presentiamo il bilancio e con orgoglio davvero e grande soddisfazione posso dire che abbiamo raccolto 120 mila euro. Saranno soldi tutti dedicati, fondi tutti dedicati a progetti per donne in rosa e per donne in fragilità socio-economiche. Sono tantissime le persone che ci aiutano, che ci accolgono, non soltanto gente che viene dalla società civile, ma aziende, amministrazioni. Siamo in tanti a portare avanti un progetto di grande solidarietà sociale. In attesa della Corsa in Rosa in piazza Prefettura a Bari il 17, 18 e 19 maggio prossimi sono previsti intanto tanti altri appuntamenti e attività. Prossimi obiettivi, prossimi appuntamenti? I prossimi appuntamenti sono subito. La settimana prossima ritorna la carovana della prevenzione. Partiamo il 4, giovedì 4, staremo a Tricase per poi tornare a Bari per due tappe e proseguire per Sant'Eramo e Potignano. Noi siamo davvero lieti di poter prestare un servizio che va dal di fuori innanzitutto dello skin regionale perché questo va detto. Quindi aiutando appunto tanta gente ad attenzionare la propria salute ma anche a parlare di prevenzione. La parità di genere è raccontata attraverso la storia della più iconica delle bambole. La Barbie ne ha discusso l'avvocatura barese. Partiamo da questa figura perché sicuramente è una figura che è risultata innovativa rispetto al vecchio concetto di bambola intesa come mamma, cioè come una persona, come un soggetto che accudisce come mamma. La parità di genere è raccontata attraverso la storia della più iconica delle bambole, la Barbie. Ne ha discusso l'avvocatura barese da un'idea di Barbara Pirelli del foro di Taranto e ripercorrendo le tappe dell'empowerment femminile vale doppio nella giornata internazionale dedicata alle donne e dopo il record di incassi del film dedicato alla bambola, la stessa che ha cambiato l'immaginario, spiegano, rispetto alla sovrapposizione una volta totale dell'idea di donna e mamma. Barbie è la donna, rappresenta la donna moderna, rappresenta colei che raggiunge dei risultati e infatti con le Barbie abbiamo avuto per esempio la prima Barbie di colore, la Barbie con la sindrome di Down, la Barbie sulla sedia a rotelle, quindi rappresenta non solo la donna affermata che sa come vivere e come vivere al meglio, ma rappresenta anche un'idea di assoluta inclusione. La pagina di Cultura, quinta edizione del premio letterario I Fiori Blu di Foggia, questa mattina la presentazione proprio del nuovo programma che porta in Capitanata dieci libri pubblicati nell'anno per avviare un percorso di consapevolezza che coinvolge tutto il territorio. Antonella Davola È cresciuto grazie alla passione, come ho detto a qualcuno qualche giorno fa, alla curiosità enorme che esiste tra tutte le personalità che si incontrano, a cominciare dagli studenti e dalle studentesse fino ad arrivare ai protagonisti della giuria tecnica che ci onorano ogni anno della loro presenza e dei loro consigli. In un continuo crescendo e per il quinto anno consecutivo il premio nazionale letterario I Fiori Blu di cui Antena Sud si conferma media partner con Sacra Foggia, capitale nazionale della lettura. Il premio, istituito su iniziativa dell'omonima associazione culturale, preseduta dalla giornalista Alessandra Benvenuto, presidente e direttrice artistica della Kermesse letteraria, porterà in capitanata dieci libri di scrittrice e scrittori di fama nazionale. A selezionare i cinque finalisti tra i dieci candidati sarà una giuria tecnica, preseduta come ogni anno dal giornalista e saggista Paolo Mieli. A fare da cornice della conferenza stampa di presentazione dell'evento, svoltasi nelle scorse ore, la splendida Sala Fedora del Teatro Umberto Giordano. Sì, noi investiamo su questo festival letterario e su Foggia perché siamo convinti che la cultura, la lettura siano un elemento di rinascita per Foggia e quindi questa è la quinta edizione e stiamo lavorando per fare in modo con gli organizzatori che ringrazio che ci possa essere sempre un'edizione più importante ogni anno. Iniziative come queste invece testimoniano che Foggia tiene a questo tema e soprattutto risuonano a livello nazionale e fanno risaltare la nostra città per qualcosa di positivo. Costruire questa narrazione nuova è importantissimo e i Fiori Blu con i suoi importanti ospiti e la sua importante direzione lo sta facendo già da molti anni. A Vari nel colonnato della città metropolitana la mostra dedicata a Piccini. Il ricordo e la memoria dell'artista Gaetano Piccini rivivono a Bari, in particolar modo nel colonnato del palazzo della città metropolitana, lì dove è stata inaugurata e organizzata dai familiari dell'artista in collaborazione con l'assessorato comunale alle culture e al turismo una mostra dal titolo Piccini, nascita di un pittore. In esposizione 25 opere di un giovanissimo artista realizzate nella prima metà degli anni 50 che di fatto segnano gli inizi del percorso artistico. Qui ritroviamo flotte di marinai volanti immersi in un cielo azzurro, ricordi della presenza nel dopoguerra dei soldati americani nel capoluogo pugliese e quindi bandiere stars e strips, simboli USA, coevi dell'emergente pop art. Inoltre un originale San Nicola in smalto rosso e oro, arricchito da simboli algebrici, autolitratti, piazza San Marco a Venezia e tanto altro ancora. Ma soprattutto racconta di momenti anche di un ventenne che comincia a soffrire attraverso l'arte ma non si distrae dei tanti colori e delle tante figure che è gli stesso negli autoritratti ripropone ogni volta diversamente ma con una carica artistica fortissima come raccontava suo nonno che immediatamente poi in futuro sarà già precursore di quella che sarà l'arte pop che conosciamo. Io per questo ringrazio la famiglia Piccini, ringrazio sua moglie Rosa, i figli Luigi e Mauro che hanno potuto insieme all'amministrazione comunale, insieme a noi che abbiamo teso la mano restituire queste opere straordinarie che raccontano un periodo importante ma soprattutto il futuro dell'arte contemporanea. Cinque tappe invece per la Borbonica Cup si inizia domani. Da Palmarigi nel Salento a Randazzo nel Catanese fino a Rocca Imperiale in provincia di Cosenza Eboli nel Salernitano e Civitella del Tromto in provincia di Teramo da domenica prossima 10 marzo al 2 giugno torna la seconda edizione del circuito Borbonica Cup manifestazione che apre la stagione agonistica della FC nel centro-sud Italia all'edizione 2024 con start in Puglia e finale in Abruzzo. Il progetto Borbonica Cup lanciato nel 2023 si arricchisce e cresce con la tappa abruzzese. Sport, territorio, storia, questi gli ingredienti della Borbonica Cup. Sono cinque tappe di cui la prima si comincia domenica prossima a Palmarigi qui a provincia di Lecce dove c'è anche il camminato regionale delle categorie juniors under 23 elite e quindi si inizia già col botto e poi cinque manifestazioni, cinque tappe e l'ultima si conclude nella nuova regione, la New England che è l'Abruzzo con una gara che si fa in provincia di Teramo. Questo permette ai giovani talenti specialmente dei nostri territori di potersi esprimere in gare di caratura nazionale e su percorsi altamente tecnici e importanti perché quando poi ci saranno i confronti sui classici territori nazionali dove si svolgono la maggior parte delle manifestazioni importanti del calendario nazionale i nostri atleti giovani hanno così la possibilità di avere un bagaglio di manifestazioni a livello tecnico importante. Ed è tutto per questa edizione, dopo la pubblicità le notizie da Taranto, Brindisi e Lecce. O tramite QR Code, la nuova app di Antenna Sud, più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata, seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on-demand da qualsiasi dispositivo.